Simone Bernardini, giocatore di Liverpool, come arrivi a questa competition? Mi sento abbastanza pronto per affrontare questa competizione, farò tutte le partite al massimo, pensando al mio idolo fondamentale che è Roberto Rambaudi, che richiama molto il mio ruolo, nel quale giocherò. Siamo pronti, faremo del nostro meglio. Che ne pensi Capitan Bomba Stefani? È l'uomo giusto per portarvi al trionfo? Un trascinatore senza dubbio, lui è colui che ci porterà verso la performance definitiva, con le sue gambe possenti, che recupera palloni, molto forte, fa la legna come si suol dire, e sarà colui che ci fornirà magari gli assist per poter vincere questo torneo. Siamo fiduciosi. Partiamo con il Borus Nai, che cosa ti aspetti da questa sfida? Sarà una partita molto interessante, anche perché veniamo da un confronto verbale molto amichevole, che però ci ha fatto capire come la competizione sia attiva. Sarà una partita strana, sarà una partita combattuta, ma ciò che conta è la performance in sé per sé. Siamo fiduciosi. Fammi anche domanda. Buonasera. Sì, certo, buonasera. Massimo Moccoli, il gioco di Pianziano del torneo, più esperto, come ti riferisci? Più esperto. Come ti accinge queste sfide? Beh, diciamo che subito il derby è la prima partita, quindi dovremmo affrontarla con il coltello tra i denti. Qual è il tuo obiettivo per questo? Il tuo personale di squadra? Beh, perlomeno fa bella figura, di non fare la squadra materasso del torneo. Le semifinali sono un sogno o un obiettivo concreto? Diciamo un obiettivo, via. Qual è il tuo ruolo? Come giochi? Dietro. Difesa, quindi in massima difensiva. Dipende dal modo, a rombo il centrale dietro, a quadrato uno dei due dietro. Come sta caricando il capitano? Beh, il capitano l'ho visto a quanto carico, sta dando, diciamo, energia alla squadra. Perfetto. Quindi tutto pronto per l'esordio. Ti ringrazio, Massimo. Grazie a te. Marco Bomber-Stefanini, capitano di Liverpool, innanzitutto come stai? Alla vigilia di questa antigena. Bene, carico. Non vediamo l'ora di giocare sul campo. Senti, l'obiettivo concreto della tua squadra? L'obiettivo? Vincere. Che di vincere? Ho fatto la squadra per vincere. Senti, si parla molto come giocatore, diciamo, chiave della tua compaglia, di un certo Catalucci. Puoi parlarci di lui in qualche modo. Eh, sì. Giocatore molto che corre, molto tecnico, sinistro veramente micidiale. Sia destro che sinistro, gran giocatore. Chi sarà la rivelazione della tua squadra? La rivelazione della mia squadra? Che non ti aspetti che potrebbe fare la differenza. Ma secondo me il giocatore che ci abbiamo di esperienza, Massimo Moccoli. Moccoli, attenzione a Moccoli. Senti, hai già giocato contro il Borusneno amichevole, che partita ti aspetta? Eh, speriamo di reggere sul fiato questa volta. L'ultima volta abbiamo mollato, giustamente voi. Il Borus gioca al calcetto, tutti allenati, quindi siamo capitolati questa volta, speriamo di no. Bene. Ora, un invito agli avversari e ai tuoi compagni di squadra, c'è un messaggio. Un messaggio, diamo tutto. Cerchiamo di vincere questa confederation. e in buccan lupo a tutti. Posso.